benvenuto mister iniziamo con le domande buonasera mister intanto complimenti per la vittoria sono sono d'obbligo 20 minuti di grande calcio sembrava una squadra totalmente in controllo tecnico oltre che tattico della della partita poi la virtus è stata brava a rimanere in partita perché il doppio schiaffone poteva stenderli e forse avete fatto una piccola sbavatura difensiva che vi ha cambiato anche un po l'atteggiamento mentale sul sul gol del 21 e poi io le faccio i complimenti per un'altra cosa le letture dopo l'espulsione di salvo perché il 342 scafetta tutta fascia zona ad un bravano c'è questi ragazzi che stiamo cominciando a scoprire responsabilizzati è una squadra che ci ha creduto fino alla fine nonostante l'inferiorità numerica e il gol di frisena credo che sia il premio a tutto quello che è successo oggi in campo sì sono d'accordo abbiamo fatto 15 minuti veramente molto buoni dove avevamo avuto il doppio vantaggio e dopo siamo stati un po' alle grotte si può dire così in quanto forse pensavamo che la partita fosse talmente facile che avevamo abbassato ritmi intensità voglia era troppo uno specchiarsi e dopo che abbiamo preso il 2 a 1 abbiamo incominciato a avere un po di timore e poi il 2 a 2 ancora peggio ma questo deve insegnare a questi giovanotti che sono stati bravissimi anche oggi che comunque non bisogna mai abbassare la guardia che bisogna essere concentrati che bisogna colpire nel momento in cui c'è da colpire e se noi eravamo in pieno controllo per i 15 minuti vorrà dire che lo potevamo fare anche per dopo solo che specchiandoci un po' troppo e quando il lupo diventa cattivo poi magari rischia che ti azzanna e noi avevamo pure messo in dubbio di poter vincere la partita perché comunque sono stati bravi quelli del Francavilla a non mollare mai hanno riaperto col 2 a 1 e poi il 2 a 2 era diventata un po' più problematica e in più alla fine abbiamo avuto questa espulsione ma sono stati bravi a crederci fino in fondo sono stati bravi quelli che sono subentrati che sono entrati in partita perché erano dentro la partita anche se erano fuori ed è stato fondamentale e poi Frisena ha fatto un capolavoro dei gol e ci ha permesso di portare a casa i tre punti che sono di una vitale importanza estrema quindi ci godiamo questo momento ci godiamo questa vittoria anche se con sofferenza ma presumo sia stata molto meritata buonasera mister complimenti di Frisena ha detto lei le chiedo di qualche singolo ovviamente i nuovi Piana importa che non ha responsabilità sui colla quanto abbiamo visto D'Umbruvano è zona come nuovi e poi sull'espulsione di Salvo si ha detto qualcosa ma io penso che come squadra si sono ben comportati poi nuovi che erano diciamo alle prime opportunità Daniel è arrivato giovedì e quindi catapultato dentro zone con noi da tre settimane forse neanche e sta incominciando a capire qualcosina in funzione di quello che deve essere il motivo tattico per lui il portiere ha fatto il suo dovere ribadisco che l'avete già detto voi che non ha responsabilità alcuna sono contento per come si stanno applicando per come si stanno divertendo attraverso quelle che sono gli allenamenti e soprattutto per quella sana competizione che si sta creando prendendo consapevolezza che ognuno si può giocare un ruolo importante in questa squadra allora Salvo onestamente non so parlarne perché il ragazzo diceva è stata una spinta ma non l'ho vista quindi mi fido di quello che ha detto il ragazzo però ciò non toglie il fatto che è stato espulso quindi presumo che lì non si può cambiare alcun regolamento quantomeno una giornata la prenderà che finora si era ben comportato però non andiamo a dare la croce addosso al ragazzo che è dolcissimo secondo me comunque sarà il primo dispiaciuto in assoluto e quindi per questo motivo qua poi ne parleremo martedì ma tranquillo perché ci sta fa parte del gioco ed Emma Uso spero sia una contusione ha preso una ginocchiata nel finire del primo tempo e poi alla fine ha chiesto il cambio perché era arrivato forse all'estremità di un di un dolore insopportabile valuteremo in questi due giorni simone milioti tempo stretto sì mister una domanda su comunque le manovre offensive dei suoi giocatori in campo penso a ragusa penso a zunno quando è stato spostato dal quartista ecco riescono a se trovano degli spazi da attaccare ad essere tanto pericolosi sì sono dispiaciuto che non abbia fatto col ragusa ma è sulla buona strada già il fatto che lui ci sia arrivato che abbia fatto due penetrazioni importanti e due incursioni importanti significa che il ragazzo sta ritrovando se stesso in termini di fiducia ma non c'è che bisogno che mi debba dimostrare quel qualcosa in più lui deve solo sbloccarsi in fase realizzativa e secondo me ripartirà la grande poniamo grande fiducia così come la poniamo su su plescia così come la poniamo su luciani così come la poniamo su tutti quelli che fanno parte di questo organico e sono felice di poterli allenare quindi questi siamo questi siamo rimasti e sono convinto che ci daranno grande soddisfazione se non ci sono altre un'altra domanda certo sì mister non te lo chiediamo mai della classifica ma adesso questa è una vittoria che un po può cambiare il vostro destino perché allungate otto punti di vantaggio sulla versus francavilla otto sulla turris il monopoli gioca domani e siete a meno quattro dal decimo posto non ti chiedo se l'obiettivo può diventare quello di playoff però guardare in avanti indipendentemente se poi l'obiettivo possa essere quello può cambiare un po' la testa può rimotivare il gruppo che sempre a farsi inseguire magari a volte si stanca invece se ogni tanto si si può inseguire qualcuno può far bene ma siamo contenti di quello che stiamo allungando in termini di zona calda nella parte sotto però non mi illudo non mi mi fa solo piacere noi abbiamo allungato un po' dobbiamo sognare perché è giusto e lecito sognare che non costa niente ma dobbiamo anche pensare che non abbiamo fatto niente di straordinario siamo ancora a 29 punti siamo dentro una situazione molto ibrida nella parte sotto perché basta e ti scivola il piede due volte e ti ritrovi dentro invischiato come non mai bisogna avere quella consapevolezza sana quella giusta che ti permette di viverla in maniera serena ma sapendo prima che c'è uno step da raggiungere che è quello della salvezza dopodiché possiamo parlare di tutto e di più dopo aver raggiunto quello che è una prima parte nostra di obiettivo che forse era quella determinante la più importante perché quando siamo partiti era evitare di fare quello che è successo l'anno scorso dobbiamo riuscire a fare questo poi se abbiamo tempo vediamo ma ciò non toglie il fatto che dobbiamo essere anche bravi a viverla serena tranquilla e sognando anche di poter dire siamo là godiamocela non è un delitto godersi un momento favorevole abbiamo vissuto momenti brutti adesso stiamo vivendo momenti un po' più felici in termini di risultati siamo a meno otto dagli altri o a più otto come lo si vuole dire o leggere fate voi ma rimane il fatto che comunque non se non raggiungiamo almeno i 41 42 punti siamo sempre a pensare a un obiettivo la salvezza. Milioti l'ultima domanda le chiedo se è soddisfatto del mercato questo ci ha offerto e questi ci siamo presi noi con queste lavoreremo siamo contenti quelli che sono arrivati sono giocatori che possono dare un contributo sostanzioso e andiamo avanti ribadisco che lo zoccolo duro io ce l'ho già dall'inizio sono felice di allenarli questi qua non sono di ripiego a nessuno abbiamo preso Rosafio abbiamo preso Civilleri che stiamo cercando di portarlo nel lume della ragione fisica abbiamo lasciato Firenze due settimane questa era una terza da recuperare perché influenza partenza e nascita del bambino e quindi abbiamo un altro giocatore importante certo se fosse arrivato qualcosina ancora più concreto e più importante non ci saremmo tagliati le vene però il gruppo mi soddisfa pieno sono sono contento e dobbiamo andare avanti punto ok grazie mister a voi ciao ciao piano